Non spaventatevi, sono i consueti saluti in chiusura, un grazie a tutti i relatori, anche un grazie a chi in presenza o da remoto è rimasto fino a questa tardissima ora. Credo che i dati che abbiamo ricevuto siano estremamente illuminanti e anche dimostrino la complessità del lavoro che la riforma chiede. Cioè l'antandà sui va, diceva Napoleone, ma adesso vedete al Ministero cosa vuol dire questo lavoro di organizzazione e poi i misteri della nostra pubblica amministrazione, il passaggio dei dati da un soggetto all'altro, tutti i soggetti pubblici, tutti tenuti più o meno i medesimi obblighi e poi inizia il garante che non ha ben capito, credo, a questo punto che cosa deve garantire, ecco, almeno io ho qualche perplessità in proposito. Un grazie quindi a tutti, ma un grazie, ho già ringraziato più volte i nostri sponsor e voglio particolarmente ringraziare l'Avvocato Tuzzami per Europa Investimenti che ha collaborato e avrebbero dovuto anche fare un intervento, poi per motivi organizzativi non sono riusciti, ma l'appuntamento ovviamente è alla prossima volta e come sempre di consueto, perché se lo merita ampiamente, un ringraziamento a Teodoro Bubbio senza il quale il convegno non esisterebbe perché tutta la parte organizzativa qui ad Alba grava su di lui e ancora un ringraziamento a Welcome, a Marinella Minetti, a Valeria Pelle e a tutta l'organizzazione, le hostess, i tecnici, la cabina di regia che ci hanno consentito anche questa volta di arrivare alla fine. Io mi auguro, diciamo con riserva, appuntamento all'anno prossimo, sperando che le congiunture favorevoli che per 30 anni ci hanno permesso di fare questo convegno, ma non diamo nulla per scontato, ci consentano di proseguire e devo dire tra l'altro che nel discorrere in questi momenti, in queste ore, sono venute fuori, anche perché il banno denuncio è una fucina di idee, tanti spunti e tante idee per cui qualche cosa probabilmente faremo. Pubblicheremo gli atti, quindi già i relatori hanno ricevuto una richiesta di organizzarsi, non aspettiamo oltre gennaio come di consueto, perché poi non serve più nulla, ma pubblicheremo subito su diritto della crisi le slide, perché i numeri che ci sono stati forniti, sia a livello di analisi macroeconomica, eccetera, sia, insomma, le informazioni che abbiamo sono utili adesso, tra qualche mese saranno meno interessanti, evidentemente. Grazie ancora a tutti e arrivederci.